Quanta scienza c'è nella Divina Commedia? Lo potrete scoprire grazie ad Unicam giovedì 25 marzo. Unicam infatti celebra il Dante D, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri con l'attore Cesare Bocci, che leggerà in diretta alcuni brani della Divina Commedia con la partecipazione di studentesse, studenti, dottorandi e docenti Unicam per capire come si possa parlare di scienza anche in un'opera letteraria. Anche Unicam ha voluto celebrare il Dante D quest'anno in un'edizione ancora più significativa perché avviene nel 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. L'appuntamento è quindi per giovedì 25 marzo alle ore 10.30 in diretta sulla piattaforma Webex. Info e link per collegarsi e seguire l'evento saranno disponibili il giorno dell'evento su www.unicam.it. Non mancate! Grazie! Grazie! Grazie!